Prova il cross tagliato, chance per tira, un'altra conclusione, tra l'altro ma non è finita! Questa eroele potrebbe essere di fatale, palla dentro di si, ma di testa! Grande colpo di testa, rapido, preciso, questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso, niente da fare per il portiere. Grazie a tutti! Grazie a tutti!